Il noto commentatore sportivo Enzo Bucchioni ha recentemente condiviso le sue acute osservazioni sullo stato attuale del calcio italiano in un'intervista a Radio Punto Nuovo. Per i tifosi dell'Inter, le parole di Bucchioni offrono uno spaccato intrigante dell'evoluzione della Serie A e delle sfide che i top club si trovano ad affrontare in questa stagione. Bucchioni ha esordito evidenziando lo scontro tra Milan e Juventus, che ha riaperto le porte della competizione a Napoli. L'esperto commentatore sostiene che lo scenario attuale in classifica è notevolmente serrato, con tutte le squadre coinvolte nella gara. Ciò significa che anche le squadre che hanno avuto un inizio difficile si stanno riprendendo e si stanno avvicinando alla vetta della classifica in un'emozionante dimostrazione di resilienza e determinazione. Prima di proseguire vi chiedo di iscrivervi al canale e di lasciare un like per non perdere le prossime novità nerazzurre. Analizzando la prestazione del Napoli, Bucchioni ha espresso comprensione per alcune partite deludenti della squadra. Sottolinea però che è prematuro escludere gli azzurri dalla corsa al titolo perché hanno dimostrato grande potenziale e qualità durante tutta la stagione. L'entusiasmo di Bucchioni nei confronti del Napoli ci ricorda chiaramente che il calcio è imprevedibile e pieno di colpi di scena sorprendenti. Quanto all'Inter, Bucchioni ha offerto una prospettiva equilibrata, sottolineando che anche i campioni d'Italia in carica non sono invulnerabili. Il club ha anche affrontato sfide durante tutta la stagione, il che dimostra la guerrita competitività della Serie A. Ciò dovrebbe essere fonte di ottimismo per i tifosi dell'Inter perché sanno che la battaglia per il titolo è lungi dall'essere decisa. Quanto alla Juventus, Bucchioni ha sminuito l'aura di invincibilità che un tempo circondava il club. Ha sostenuto che la vittoria della Juventus sul Milan è stata influenzata dalla situazione in cui il Milan aveva solo 10 giocatori in campo. Ciò suggerisce che la Juventus non è una squadra imbattibile e che le altre squadre, compresa l'Inter, hanno la capacità di competere ad armi pari. Le parole di Enzo Bucchioni offrono un'analisi approfondita della stagione calcistica italiana, dipingendo un quadro di intensa competizione e di entusiasmanti opportunità per tutti i club coinvolti. Ora, vorremmo conoscere la tua opinione su questa analisi. Come valuti le prospettive dell'Inter nella corsa al titolo? Lascia la tua opinione nei commenti qui sotto.